Elezioni politiche europee. I seggi in Italia chiudono alle 11 di questa sera, però l'affluenza alle 19 era del 43,2%, quindi alle 19 la tendenza viene sostanzialmente confermata. Secondo il Viminale, in Italia è andato alle urne il 43,2% dei votanti, un punto in mezzo in più rispetto all'analoga consultazione del 2014. Un aumento, insomma, anche se più contenuto rispetto a quello registrato in altri paesi europei. Alla stessa ora, ad esempio, la Francia registra una partecipazione al voto di 10 punti più alta rispetto a 5 anni fa, quindi situazione alle 19 votanti rispetto al 2014 più un per cento.